La scorsa partita avevamo detto segnali stra-positivi del Lanciano contro il Penne, altrettanto positivi in Coppa con una formazione totalmente rivoluzionata. Oggi forse la consacrazione di questo lavoro fatto in questo primo mese, da quando sei arrivato, un 5-0 in una trasferta molto ostica e Lanciano in testa della classifica. La classifica non la so, come sempre, non la guardo. No, non è ancora una consacrazione, è una squadra che può fare ancora meglio, che ha dei valori tecnici importanti, comincia ad esprimersi in maniera importante sicuramente, però non c'è ancora consacrazione. Mister, possiamo dire che c'è stata un'evoluzione anche sotto il punto di vista tattico di questa squadra, abbiamo visto una squadra coprire il campo in ogni posto, nonostante comunque uno schieramento del 3-5-2 che forse era inatteso da parte degli avversari, Lanciano ha approcciato la partita benissimo e ha dominato fondamentalmente per 90 minuti. E' la prova che stiamo lavorando, non stiamo lasciando niente al caso, si lavora settimanalmente, si lavora bene, la squadra risponde, è motivata e questa è la cosa più importante. Fin quando loro avranno motivazione nel seguirci, nel fare bene, il lavoro è facile. A livello di Rosa, Mister, tutti quanti i giocatori coinvolti stanno giocando bene, anche appunto nel turnover di Coppa, poi c'è Miciche che sta facendo la differenza, però c'è da dire che il collettivo sta prevalendo in maniera assoluta. Il collettivo deve prevalere in maniera assoluta, poi gli interpreti sono quelli che esaltano il collettivo. Noi non possiamo prescindere da un collettivo importante perché poi i singoli verranno proprio esaltati dal collettivo.